per chiunque si fosse sintonizzato per la prima volta nel mio canale se vi piace il modo in cui io faccio gli interattivi vi piacciono gli argomenti vi piacciono le stesure gli esiti quello che vi pare e volete aiutare questo canale a crescere allora basta semplicemente cliccare iscriviti e attivare anche la campanella così sarete sempre aggiornati in tutte le mie nuove attività volevo anche ricordarvi che sono ovviamente gli interattivi sono stesure generalizzate quindi non possono mai 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 risuonare su tutti per tutti coloro che hanno un problema o vogliono sapere un qualcosa analizzare una situazione nell'info box ci sono i miei dati informazioni insomma il modo in cui potete mettervi in contatto con me e sarò veramente felice di potervi in qualche modo aiutare prendete questi interattivi invece con molta leggerezza a scopo di intrattenimento perché ripeto sono tante energie e non possono appunto risuonare su tutti in ogni caso se siete qui in questo momento a vedere questo interattivo qualcosa all'universo vuole regalarvelo quindi prendete quello che vi risuona e lasciate perdere quello che non vi risuona l'interattivo di oggi sarà ci sarà un incontro a breve e cosa mi dirà allora parliamo ovviamente di qualcuno che non vediamo insomma abitualmente che non è una relazione in essere dove c'è stato un allontanamento dove c'è stato uno stand by o anche una fine insomma voglio dire una persona che noi abbiamo ancora nel nostro cuore e andiamo di trovare di incontrarla e quindi non vogliamo sapere se ci sarà un incontro a breve e soprattutto cosa vi dirà quindi se avete una situazione in essere non è questo il vostro interattivo allora le varianti sono due abbiamo la prima variante con il rider white il cuore giallo la seconda variante con i tarocchi classici antichi abbiamo il cuore rosso quindi fate la vostra scelta e se non fate in tempo stoppate il video e prendetevi tutto il tempo che appunto vi occorre io intanto inizio con la prima scelta e il cuore giallo che metterò qui allora mentre mischio i miei tarocchi mi raccomando voi cercate di non incrociare mani e piedi fate fluire la vostra energia concentratevi sulla persona di vostro interesse la persona che avete nel cuore la persona che a cui è rivolta la domanda quindi fate un bel respiro profondo chiudete gli occhi cercate di visualizzare di immaginare il suo viso i suoi occhi la sua figura per intero anche la sua voce quindi ripeto non può risuonare su tutti quindi tranquillità è un modo per intrattenerci ovviamente qualche messaggio per voi c'è sempre allora quindi andiamo alla domanda ci sarà un incontro a breve per coloro che hanno scelto la prima variante il cuore giallo è la loro è la persona di loro interesse è la persona che hanno nel cuore coloro che hanno scelto la prima variante il cuore giallo vediamo se ci sarà a breve questo incontro e che cosa vi dirà allora intanto come energia del fondo mazzo abbiamo un sette di bastoni quindi qua c'è una situazione comunque un'energia di voler superare in qualche modo le difficoltà inerenti a questa domanda allora allora qui abbiamo intanto qua ci sarà subito l'incontro perché abbiamo subito il sette di bastoni sei di bastoni scusatemi che mi parla proprio di un incontro di un ritorno di una persona che si che si che avanza verso di voi avanza verso di voi perché perché vuole una guarigione avanza verso di voi perché perché è in questo momento sta male sta male perché comunque c'è stato una sorta di allontanamento però con la carta della morte mi parla di un allontanamento che comunque si si lascia alle spalle e dove c'è una rinascita quindi una situazione comunque di un nuovo inizio voi mi uscite come la regina di spade quindi un'energia di una donna del segno di aria bilanci gemella acquario o potrebbe portarne l'ascendente o potrebbe avere qualche importante diciamo questo segno in qualche pianeta importante o comunque è una regina questa che ha deciso così di indurirsi perché evidentemente troppe ne ha subito e troppe ne ha sopportato oppure ha sofferto molto e quindi è una regina che non vuole più commettere errori è una regina che ha un animo puro libera indipendente forte che ha il senso del dovere molto spiccato e quindi lotta con ardore per ottenere ciò che desidera allora vi dicevo la prima linea di carte è se ci sarà un incontro l'incontro ci sarà perché qui abbiamo già come vedete questo 6 di bastoni che ci porta che ci dice comunque in ritorno la vittoria di una persona anche se noi dobbiamo essere molto cauti perché questa carta ci parla anche di amori incerti divisi con altri qui in realtà un 3 di coppia mi viene fuori adesso bisogna vedere se questo 3 di coppia è un'energia dell'incontro nel senso che lui vuole vedervi per avere consolazione guarigione perché questo significa anche esito felice la realizzazione di un desiderio oppure se potrebbe esserci comunque una terza persona che vi ha allontanato è per questo che voi mi siete diventati la regina di spade però io devo dire che con la carta finale del 2 di coppe mi viene più da pensare che questa persona è veramente molto presa da voi ancora e quindi io direi che l'incontro sicuramente ci sarà e devo dire anche a breve perché abbiamo proprio abbiamo proprio lui come prima carta proprio lì con lì con la proprio la voglia di venire verso di voi e anche con la carta della morte non solo venire verso di voi ma cercare un rinnovamento un qualcosa che possa dare una linfa diversa una linfa più propositiva e darvi anche un po di sollievo perché voi siete veramente una donna che in questo momento soffre il 2 di coppe ci parla che lui vuole questo incontro comunque perché perché vi considera la donna della sua vita perché comunque ha passione ha affinità ha un amore verso di voi e vorrebbe incontrarvi anche per appunto come dire confermare questa relazione sentimentale che lui sente nei vostri riguardi allora diciamo che come prima stesa su ci sarà l'incontro è assolutamente positivo per le ragioni che vi ho appena spiegato adesso andiamo a vedere quindi l'incontro ci sarà e ci sarà anche a breve perché come appunto vi dicevo le carte sono positive anche se comunque voglio dire qui abbiamo anche un 9 di spade quindi insomma qua c'è stata molta delusione molta disperazione insomma c'è stato anche un po di sospetto di inganno quindi insomma qualcosina poi vediamo diciamo se le carte dopo ci danno così a vedere qualche altra informazione adesso andiamo a cosa vi dirà quindi andiamo a sviluppare dopo questo incontro questa persona sono cadute due carte le prendiamo che cosa vi dirà ok allora andiamo a vedere che cosa vi dirà questa persona dopo aver constatato che ci sarà un incontro è anche un incontro con delle presupposti diciamo sentimentali allora come carta di fondo mazzo abbiamo comunque elefante di denari che comunque ci parla sì di messaggi quindi notizie quindi questa persona ci parlerà perché già questa è una carta che ci porta notizie anche se comunque dobbiamo essere molto riflessivi perché questa è una carta di primo stadio cioè che deve migliorare quindi le sue intenzioni devono migliorare ancora va bene allora due di bastoni abbiamo sei di denari abbiamo la carta del papa abbiamo il set di coppe di spade il cavaliere di spade e abbiamo il sei di coppe allora che cosa vi dirà questa persona questa persona vi dirà che intanto lui ancora diciamo ha tante incertezze tanti dubbi perché ci sono stati molti contrasti fra di voi lui ancora è molto cauto ha un'energia un po' così irrisosa un po' volubile come dire anche un po' pieno di ostilità ancora dentro di sé perché comunque ci sono state delle situazioni che a lui proprio non sono andate giù insomma dei conflitti dei contrasti che hanno creato in lui questo diciamo anche ecco anche questa voglia di riflettere comunque di non volersi troppo esporre però a parte questo io non vorrei che questa persona fosse anche gelosa di voi ecco ci fossero state magari dei motivi non dico giustificabili però comunque suoi di gelosia nei vostri riguardi allora comunque in ogni caso lui vi ritiene di essere in coppia con voi cioè comunque lui ha una situazione amorevole nei vostri riguardi anche se un po' dubbiosa perché qui abbiamo qui il 2 di bastoni che ci parla di una coppia vorrebbe dei doni vorrebbe in qualche modo superare questa situazione che lo ha fatto stare veramente male anche se c'è un'energia un po' impulsiva però questa energia ci dà proprio la spinta giusta perché questa è un'energia molto audace molto impulsiva che può essere sia in negativo che in positivo in questo caso ci dà diciamo l'impulso proprio del dirvi che comunque lui verso di voi ha ancora un senso di unione di protezione vi dirà che dovete fidarvi di lui vi dirà che voi insomma gli mancate gli mancate in maniera proprio chiara perché la stesa si conclude con il 6 di coppe che ci parla proprio di ricordi nostalgici d'amori passati quindi questa persona vi dirà che in breve vi dirà che sente molto la vostra mancanza che nonostante tutte le cose che ci sono state insomma di passare avanti perché sente per voi un senso di amore di lealtà di unione di consolidamento insomma lui vuole una situazione stabile con voi e perché questa persona comunque nel suo cuore ha per voi un amore allora adesso con le carte del aspettate ecco con gli angeli del cuore io voglio una conferma ulteriore se appunto sull'esito di che cosa vi dirà perché insomma l'incontro ci sta lui vi parlerà vi dirà comunque che appunto gli mancate che ha un sentimento che insomma sente si sente ispirato verso di voi che gli date serenità eccetera eccetera vediamo gli angeli del cuore che altro ci vogliono dire appunto in riferimento a questa situazione di chi ha scelto il cuore giallo la prima variante allora prendiamo una carta qua dice tieni la mente aperta la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che vi aspettate quindi diciamo che questa carta vi suggerisce appunto che nonostante magari ci sono delle incomprensioni magari caratteriali magari di energie che in questo momento insomma non sono proprio positive o non sono state positive comunque di tenere la mente aperta perché comunque qua c'è un'unione che è abbastanza forte perché le carte di sentimento di nostalgia ci sono e quindi dovete tenere la mente aperta proprio per cercare di accettare le persone anche se sono diverse da voi non è detto che non sono adatte per voi essere diversi non significa non essere adatti vediamo adesso prendiamo una carta delle risposte degli angeli che ci vogliono dare qualche consiglio riferito a questa situazione prendiamo questa ci dice no quindi il consiglio riferito a questa situazione che ci dice no evidentemente c'è qualcosa che all'obbligare un'altra carta perché queste carte purtroppo hanno anche delle risposte così secche che a volte sono difficili da interpretare allora vediamo questa carta no che cosa vuole significare in questa situazione no ragazzi non ci posso credere guardate qua che cosa mi viene fuori due volte no 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 cioè io veramente rimango basita basita queste carte mi affascinano sempre perché proprio sono proprio veramente sincroniche io adesso testarda come sono da buon capricorno devo andare a capire questo no no e no due volte no a che cosa è riferito riguardo a questa situazione che non vi posso lasciare in questo modo perché io morirei essere lasciata in questo modo quindi prendiamo in questo caso una carta degli oracoli rispondono e vediamo che cosa vogliono dire questi due no consecutivi riferito a questa situazione di chi ha scelto il cuore giallo esce la carta tic tac quindi la risposta che dà questo oracolo è tempismo divino l'amore la realizzazione dei desideri e dell'amore è sempre puntuale quindi comunque questo no no evidentemente forse sarà un'opposizione di voi due che vi contrastate però la carta degli oracoli infatti forse per questo ci dice tieni la mente aperta perché qua siete due che vi contrastate vedete quindi insomma alla fine il tic tac la carta degli oracoli ci dice insomma che il tempismo divino e l'amore e la realizzazione è sempre puntuale quindi non abbiate paura che anche se ci vorrà un po' di tempo tutto si realizza perché noi dobbiamo sempre innanzitutto rispettare il tempo divino cioè non siamo noi a scegliere i momenti ma è appunto l'universo allora questa era la variante numero uno il cuore giallo spero che vi sia piaciuto ovviamente sapete se vi è piaciuta e tutto il resto mettetemi un like e appunto se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo il canale ha bisogno di voi tutti per crescere benvenuti a chi ha scelto la variante numero due il cuore rosso con i miei tarocchi classici antichi andiamo a vedere subito se ci sarà un incontro fra coloro che hanno scelto la variante numero due il cuore rosso e la persona del loro pensiero del loro cuore dei loro desideri quindi ci sarà un incontro a breve la domanda è ci sarà un incontro a breve cosa mi dirà però noi metteremo giù le prime sei carte per avere un risponso su ci sarà un incontro a breve fra coloro che hanno scelto la variante numero due il cuore rosso e la persona del loro cuore del loro desiderio della loro insomma interesse andiamo a vedere qui abbiamo un tre di denari come fondo mazzo che ci parla appunto di un inizio di un esito favorevole di nascita insomma di prosperità quindi insomma ci sono buone speranze di un incontro allora la prima carta è il quattro di denari poi abbiamo il sette di coppe io non so se voi vedete le carte troppa luce non riesco a vedere se appunto le vedete io spero di sì tanto lo sapete ve le faccio comunque vedere anche se non insomma le vedete così sullo schermo però io poi ve le prendo ve le faccio vedere allora è quattro di denari sette di coppe cinque di spade l'imperatore poi abbiamo il quattro di bastoni abbiamo anche il lotto di spade e finisce là quindi dunque andiamo a vedere allora abbiamo detto l'energia è di una prosperità di un esito favorevole in tutto insomma l'energia è buona voi avete speranza evidentemente che le cose possono andare come vi aspettate come desiderate qui abbiamo però un'energia di un imperatore quindi abbiamo una persona che ci contrasta una persona che è molto ego riferita è una persona molto tiranna è anche un po' arrogante è ostinato è a propositi di ferro cioè lui quando decide una cosa è irremovibile quindi diciamo che vi contrasta un po' questa carta l'energia di questa persona è un'energia molto forte e vediamo che decisione ha preso che non vuole proprio andare dietro a questa decisione allora qui abbiamo un 4 di denari che ci parla è una carta di realizzazione di stabilità quindi di realizzazione quindi lui a livello del pensiero lui sente per voi perché vedete abbiamo il 7 di coppe che ci parla comunque di immaginazione di desideri di quanto si fantastica molto nel pensiero il sogno cioè lui a livello del pensiero a livello energetico del pensiero del fantasticare la notte vi sogna di tutto e di più però a livello proprio del come dire dell'azione dell'incontro qua abbiamo un bel non contact cioè abbiamo una persona che non si fa sentire una persona che è negativa nei sentimenti che vi ha dato l'impressione di aver chiuso totalmente una persona comunque che vi ha dato o ha subito una sconfitta una persona che è piena di ansie di nevrosi è anche infelice e anche dei rimorsi perché evidentemente questo imperatore vi ha fatto soffrire e vi ha fatto soffrire anche di brutto perché comunque diciamo che questa carta del 5 di spade è una carta anche infelice per chi chiede per il consultante quindi vi ha creato una vera e propria infelicità questa sua incertezza questo suo fantasticare questa sua voler chiudere poi comunque nonostante il pensiero suo è verso di voi però questo perché è prepotente perché è orgoglioso perché è egoista perché è l'imperatore che ha tutti i difetti è il solito proprio puntini puntini o ne vi ha negato completamente il suo contatto il tutto qua mi viene proprio un non contact una proprio una chiusura anche a livello comunicativo ed è molto forte questa cosa quindi se non è così e siete ancora in contatti oppure proprio contatti sporadici ma senza senso può essere proprio giusto un contatto a Natale a Capodanno e l'epifania quindi anche se comunque fra di voi c'è un legame carmico qui abbiamo un 4 di bastoni quindi siete anime gemelle cioè voi siete proprio l'unione l'armonia però c'è questa carta del 7 di spari che mi parla di conflitti di scusatemi di sfiducia di stress mancanza di fiducia cioè una eccessiva severità quindi questa persona da queste carte non mi viene proprio l'incontro con voi cioè o comunque ci saranno proprio ci sono troppi ostacoli mi viene più da pensare che lui sogna di incontrarvi sogna vi pensa in maniera quasi ossessiva perché voi siete anime gemelle quindi insomma 4 di bastoni però lui è come se fosse sfiduciato non vuole comunque avere un contatto con voi anche se fondamentalmente lo desidera con tutto se stesso quindi ci sarà un incontro a breve io vi dico no anche se lui lo desidera da morire ok bisogna la notte ve l'ho già spiegato però questo il suo modo di fare la sua punizione è ostinato a non avere proprio il minimo contatto con voi abbiamo proprio la carta non contact quindi adesso vediamo se diciamo vabbè quindi l'incontro non ci sarà però visto che parliamo di energia comunque del pensiero seppure questo insomma nel suo fantasticare pensa a un incontro con voi che cosa vi vorrebbe dire in questo incontro perché qua parliamo di una persona che a livello fantasioso di fantasticherie di pensiero vi vorrebbe non solo vedere ma anche di più perché qua abbiamo un quattro di denari abbiamo un quattro di bastoni cioè quest'uomo è legato a voi in maniera indissolubile però è così cazzone scusatemi termine fatemelo passare che è così pieno del suo orgoglio e della sua ostinazione che non vi vuole vedere un po' anche per punirvi quindi andiamo a vedere che cosa vi direbbe se appunto potesse oltrepassare questo suo stato di orgoglio e di ostinazione ok ok andiamo a vedere cosa vi direbbe se appunto lo potesse fare oltrepassando il suo orgoglio qui abbiamo l'energia della regina di spade quindi vedete questa persona ha pure paura di voi cioè questa persona non si fa sentire né vedere perché ha paura gli fate proprio paura ha paura delle vostre reazioni ha paura che gliene dite quattro ha paura appunto di essere messo sotto accusa sotto processo perché qua voi avete l'energia della regina di spade basta non ne posso più o fai quello che devi fare se no non ti voglio più vedere quindi lui siccome ha questa situazione nei vostri confronti comunque è così duro e ostinato e non fa nulla voi adesso non ne potete più e quindi tutto rimane così nel piano del pensiero va bene è che è la cosa peggiore che ci può essere in una relazione allora qui che cosa vi direbbe quest'uomo che cosa vi direbbe intanto vi direbbe che lui non ce la fa più a stare senza di voi qui abbiamo un 6 di coppe a questa persona voi mancate tantissimo questa persona vi sogna la notte vi sogna quando facevate l'amore quando stavate abbracciati vi guardavate negli occhi e quant'altro vorrebbe con voi una relazione perché qui abbiamo un 3 di bastoni che ce lo dice o vorrebbe comunque riproporsi abbiamo l'asso di coppe ragazzi l'asso di coppe lui vorrebbe appunto vorrebbe l'abbondanza con voi vorrebbe che succedesse un qualcosa di meraviglioso un avvenimento così forte da potervi poi esprimere il suo amore anche se bloccato dal suo modo di essere cioè quest'uomo è così orgoglioso pieno di sé una persona che non sa chiedere scusa una persona che non fa mai un mia colpa una persona che agisce in maniera ostinata ripeto da tiranno proprio no quindi comunque lui anche se sbaglia non vuole ammettere i suoi sbagli e va avanti per la sua strada anche se sta male perché con l'asso di coppe il 6 di coppe e il resto di tutta la stesa questa è una persona che fondamentalmente è molto legato a voi ha anche dei sentimenti dei ricordi molto struggenti e quindi è pieno di nostalgia di malinconia verso chi verso questa regina di denari una donna probabilmente bionda bella ricca spiritualmente ed è insomma una donna concreta molto tenera anche anche se insomma molto diciamo equilibrata eccetera bella colta ma sola ok una donna indipendente una donna che non ha bisogno di nessuno che già è molto autosufficiente molto diciamo realizzata per cui lui da imperatore dice no vabbè tu comunque mi devi stare comunque ai miei ai miei ordini no e invece questa regina non solo non sta ai suoi ordini perché è una regina con gli attributi ma oltretutto c'ha un'energia che seppure stufata dell'atteggiamento di questo individuo per cui sta ferma nei suoi diciamo punti giusti e lui quindi non solo non farà nessun incontro ma in realtà non dirà nulla però a livello di desiderio di pensiero quest'uomo vorrebbe incontrarvi e vorrebbe dirvi proprio questo che gli mancate che siete l'amore della sua vita e che non dorme la notte e vi desidera ecco questo è proprio la cosa proprio che lui vorrebbe dirvi è che non ha il coraggio e né più gli attributi per farlo perché perché fermo nella sua prosopopea di sé adesso vediamo che cosa ci vogliono dire quale suggerimento quale consiglio quale input ci danno gli angeli del cuore caduta una carta vediamola conversazioni sincere ecco questa carta appunto dice il consiglio che vi da è il seguente allora esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti cioè questa è una carta ovviamente riferita soprattutto a lui al narcisista perché questo secondo me c'ha anche qualche tratto da narcisista perché non è possibile che nonostante prova tutto ciò però lui non viene a dirvi un bel nulla soffre ma non si inchina e quindi insomma è un invito questa carta degli angeli del cuore è un invito proprio a dire siate più sinceri esprimete i vostri sentimenti all'altra persona cioè non rimanete così chiusi nel vostro orgoglio perché l'orgoglio come sapete non porta a nulla vediamo adesso le carte degli angeli che gli angeli rispondono che cosa ci vogliono dire riguardo a questa variante del cuore rosso dateci un consiglio a chi ha scelto questa variante del cuore rosso su questa situazione prendiamo questa carta e dice continua così quindi voi continuate così come state facendo perché è ovvio che questa persona è lei nell'errore quindi voi dovete lui deve avere conversazioni sincere con voi perché vi deve dire quello che realmente è voi invece continuate così perché siete nel giusto e quindi se lui ha intenzione di ritornare deve ritornare e deve comunque riapprocciarsi a voi in maniera giusta equilibrata e no come un bambino un adolescente che si fa appunto come dire manovrare dal suo orgoglio ok allora questa era la variante numero 2 il cuore rosso ovviamente se vi siete riscontrati vi è piaciuto il video o quant'altro iscrivetevi al mio canale mi farà molto piacere sapete che questi canali hanno bisogno del vostro consenso del vostro seguito per poter esistere per cui se vi piace appunto questi nostri appuntamenti con questi interattivi che che io e altri mie colleghe vi regaliamo con tanta passione mi raccomando sostenetemi sosteneteci in modo che noi possiamo appunto sempre di più fare questo per voi io vi ringrazio a tutti di essere stata qui con me vi mando un abbraccio enorme vi ringrazio veramente di cuore mi raccomando continuate così un abbraccio un bacione dalla vostra Zaira ciao ciao